Musica Ho scelto di frequentare il Master di Stud perché credo che per quanto a livello di conoscenze, di competenze possa essere paragonato da altri, senz'altro c'è un valore aggiunto che è quello di condividere un'esperienza al 100% con altre persone che fino a quel momento non si conoscono, che hanno caratteristiche, personalità e un curriculum completamente differente dal mio Sicuramente una delle esperienze più sfidanti qui è il business game il famosissimo celeberrimo bistazzoni una simulazione di un business game che dura 5 giorni nel quale non avrete potenzialmente occasione di dormire o di mangiare il vostro compito sarà quello di creare un business mettere in piedi un'azienda, una start-up non vi do ulteriori dettagli perché sarà molto più divertente così Musica Il momento più bello del Master, penso che ce ne siano stati tanti soprattutto la fine del Project Work in questi momenti, dopo la stanchezza, l'impegno che hai dato riesci a essere orgoglioso del lavoro che hai fatto Musica Consiglierei il Master perché sicuramente è un modo per affinare delle conoscenze se già si hanno oppure approfondire argomenti per cui si ha già interesse e poi in particolare questo Master consente di conoscere tante persone avere una rete molto ampia anche dal punto di vista professionale Musica Il Master è stato molto intenso e molto molto stimolante anche perché abbiamo avuto la possibilità di vivere sempre tutti insieme 24 ore su 24 è come se fosse una palestra per le relazioni, abbiamo avuto la possibilità proprio di interagire continuamente inoltre non c'è solo il vantaggio del Residence come palestra di relazioni ma c'è tutta quella parte insomma più divertente, più fresca, più rilassante Musica Nei prossimi mesi mi aspetto di mettere in atto quelle che sono le conoscenze che ho appreso durante questa fase in aula attraverso uno stage sicuramente un'opportunità per capire e comprendere al meglio quella che sarà la mia strada e il mio futuro nel mondo del lavoro Musica Musica